Riforma regionale sulla sanità al via le consultazioni per la riscrittura. L'assessore Saccardi, le linee guida resteranno quelle della legge 28 del 2015. Resurrezione di Piero della Francesca, dal restauro nuove scoperte, non è soltanto un affresco. Sindaco Ghinelli, è ora di cambiare. L'appello di Ilaria Bidini per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Rischio terremoti e anche ad Arezzo la campagna di prevenzione promossa dalla misericordia e dall'ordine di Malta. Andariega, storia di una donna inquieta. Santa Teresa Davi, la protagonista dello spettacolo di Dima. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura la cronaca incidente stradale questa mattina stoppe d'arca alle porte della città di Arezzo. Poco dopo mezzogiorno due vitture si sono scontrate. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone. La più grave è una ventotene di Arezzo che è stata sbalzata fuori dall'auto riportando un trauma spinale ed altre fratture. A causa del mattempo l'elico soccorso Pegasone è potuto intervenire e la donna è stata trasferita in ambulanza all'ospedale Lescott di Siena dove è stata ricoverata in codice rosso. L'altra persona coinvolta è un uomo di cui non si conoscono le generalità. Ferito in modo lieve è stato medicato sul posto e ha rifiutato il ricovero. La strada è stata chiusa al traffico con conseguenti code e rallentamenti. Riforma regionale sulla sanità al via le consultazioni per la riscrittura parla l'assessore Saccardi. Le linee guida resteranno quelle della legge 28 del 2015. Sono iniziate le consultazioni per la riscrittura della legge regionale sulla sanità. Ad annunciarlo è stato l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi nel corso della seduta aperta della Commissione Sanità del Consiglio regionale con la quale ha preso il via l'iter che porterà alla revisione della legge sanitaria della Toscana. La riscrittura, specificato la Saccardi, modificherà la legge 40 del 2005 e la 28 del 2015 che ha suscitato numerose polemiche proteste anche nella provincia di Arezzo con raccolte firme per il referendum abrogativo che hanno coinvolto le varie fazioni politiche. Ci saranno cose da declinare meglio ma, sottolinea l'assessore, le linee guida saranno quelle della legge 28. Secondo la roadmap prefissata dalla giunta di Enrico Rossi, le consultazioni che coinvolgeranno i soggetti operanti nel settore, i sindaci e gli assessori serviranno a mettere a punto un testo che arriverà in Consiglio regionale tra un mese con l'auspicio che venga approvato entro il 2015. Questi gli obiettivi della revisione, semplificazione del sistema, riduzione dei livelli direzionali e aziendali, uniformità e omogeneità organizzativa in contesti più ampi, sinergie tra le aziende ospedaliere universitarie e le ASL attraverso una programmazione integrata, valorizzazione del territorio, economie di scala sui diversi processi, rete ospedaliera integrata su contesti più ampi e diffusione omogenea delle migliori pratiche all'interno del sistema. Confermata la strutturazione dal 1 gennaio delle tre aziende sanitarie di area vasta, ognuna dotata di tre direttori, uno generale, uno sanitario e uno amministrativo, previsto anche un percorso di semplificazione nei rapporti con il territorio. Non è pensabile che ci siano tre aziende sanitarie e 34 zone di stretto, ha dichiarato la Saccardi. Saranno decisi criteri di accorpamento che dovranno venire fuori dalla concertazione con i territori. Per ambiti al confine fra sanità e sociale, come disabilità, salute mentale e dipendenze, sarà richiesto un sistema integrato. L'organizzazione ospedaliera sarà strutturata in dipartimenti aziendali e interaziendali, con una gestione omogenea in tutta la regione, per eliminare le disuguaglianze tra zone e costruire modalità di accesso uguali per tutti. Il presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, replica con decisione l'affermazione del consigliere comunale di Arezzo, Paolo Lepri, del Movimento 5 Stelle. Al contrario di quanto afferma Lepri, l'autorizzazione unica ambientale per la Valizban rilasciata nel maggio scorso è stato un atto tecnico e non politico, così come era un atto tecnico quello che a novembre 2014 dava all'azienda una serie di prescrizioni da rispettare appena l'accessazione della attività. Rivendico comunque che questo atto continua a Vasai, così come tutti quelli dell'amministrazione provinciale, sotto la mia guida è ispirato dai principi di tutela della salute del cittadino, rispetto delle normative ed anche salvaguardia delle attività produttive e dei posti di lavoro, conclude il presidente della provincia di Arezzo. Parliamo della risurrezione di Piero della Francesca. Mentre proseguono i lavori di restauro al capolavoro, emergono delle importanti novità, non è soltanto un affresco. Sentiamo perché. Non è un affresco, è una tecnica mista. È la straordinaria scoperta emersa dal restauro in corso sulla resurrezione di Piero della Francesca, conservata nel museo civico di Sansepolcro. Secondo i ricercatori dell'opificio delle pietre dure, l'artista in alcune parti avrebbe lavorato sul muro asciutto. Una soluzione particolare è quella scelta dal pittore. Alcune parti del capolavoro sarebbero state realizzate come un vero e proprio affresco, in altre, invece, è evidente come Piero abbia usato i colori sul muro a secco. A dire la verità, la tecnica mista sarebbe stata utilizzata dall'artista anche in un altro capolavoro, il ciclo della vera croce conservato nella Basilica Retina di San Francesco. Un'opera più recente della risurrezione e soprattutto molto più ampia. E proprio alla grandezza della superficie dipinta, gli studiosi avevano fin qui ricollegato la scelta di Piero. Un'ipotesi smentita dalle nuove scoperte. L'artista avrebbe scelto consapevolmente la tecnica mista per ottenere dei precisi effetti pittorici. Nel frattempo il delicato restauro sulla resurrezione, finanziato da un generoso mecenate, prosegue e probabilmente anche le sorprese non sono terminate. È iniziato il conto alla rovescia per Gold Italy, la fiera del gioiello Made in Italy, promossa da Arezzo Fiere e Congressi, in calendario da sabato 24 a lunedì 26 ottobre. Il primo risultato positivo è già riscontrabile dalle iscrizioni dei 260 espositori, con un aumento del 25% rispetto al 2014 e la presenza di 330 buyer accreditati provenienti da 98 paesi. I compratori esteri che ad oggi hanno aderito, dichiara il presidente di Arezzo Fiere e Congressi, Andrea Boldi, generano un volume di vendite complessivo per oltre 7 miliardi e 300 milioni di dollari. Sindaco Ghinelli, è ora di cambiare l'appello di Ilaria Bidini per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Sentiamola. Signor Sindaco, io le dico una cosa. È ora che lei dia voce alle persone con disabilità. Va dritta al cuore della questione Ilaria Bidini, ragazza con disabilità che da anni si batte ad Arezzo per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel nuovo video appello pubblicato alcuni giorni fa sul suo canale YouTube e rivolto al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. La clip arriva a distanza di poco più di due anni dall'incontro con l'ex primo cittadino Giuseppe Fanfani e con l'ex assessore alle infrastrutture Franco Dringoli, nel quale Ilaria aveva evidenziato l'assenza di un'accessibilità urbana uguale per tutti. Il problema delle barriere architettoniche è sempre il solito. Non è cambiato assolutamente niente. I discorsi sono sempre soliti, ma i fatti purtroppo non ce ne sono visti. Recentemente il Vice Sindaco Gianfrancesco Gamurrini ha presentato l'inizio dei lavori per il PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, al quale possono contribuire associazioni che si occupano di problematiche connesse alla disabilità e privati cittadini. Ma anche su questo punto Ilaria esprime delle perplessità. Io non ho tanta fiducia sul PEBA, lo dico proprio sinceramente, perché secondo me bisogna partire da un percorso di educazione e di sensibilizzazione, anche puntando prima di tutto sulle scuole. Se magari mi convocassero veramente, sì, ci parteciperei volentieri. Intanto, mentre Ilaria attende una risposta da parte del Sindaco Ghinelli, lancia un suggerimento per gettare le basi da cui partire per una progettualità inclusiva. Io partirei innanzitutto da capire che siamo persone. Non bisogna avere paura di avere un confronto con le persone disabili, perché secondo me è questo che manca, andare a conoscere la disabilità, però nel quotidiano, in come una persona la vive. Intanto la Giunta regionale è completa con un atto deliberativo recentemente approvato in finanziamento da un milione di euro a supporto degli studenti con disabilità per concorrere a garantire loro una piena partecipazione ai percorsi scolastici, grazie ad un eneguato sistema di trasporto per e dagli istituti frequentati accanto a forme di assistenza socio-educativa. Un primo atto aveva liquidato 850 mila euro. Grazie all'attuale delibera si mettono a disposizione i residui 150 mila euro che completano l'intervento a favore dei circa 4.300 studenti interessati su tutto il territorio regionale. Rischio terremoti è anche ad Arezzo la campagna di prevenzione promossa dalla Misericordia e dall'Ordine di Malta. Sabato 17 e domenica 18 ottobre i volontari della Fraternita di Misericordia e il Corpo Italiano Soccorso dell'Ordine di Malta Gruppo di Arezzo scenderanno in piazza all'angolo tra Corso Italia e Via Garibaldi a fianco della protezione civile con la campagna Io non rischio finalizzata a promuovere l'informazione sui rischi connessi all'attività sismica e le buone pratiche da mettere in atto di fronte ad un evento calamitoso. Le Misericordia come da sempre quindi hanno anche un nucleo di protezione civile sia regionale, locale, regionale e nazionale per gli eventi sismici. Questa è un'occasione quindi che il Ministero ha voluto e che noi abbiamo accettato volentieri insieme al CISOM per dare informazione a più persone possibile quindi si inizia anche dai bambini a scuola quindi a più persone possibile ciò che c'è da fare e ciò che non è da fare molte volte anche negli eventi sismici e negli eventi atmosferici. CISOM è partner di questa iniziativa come tutte le associazioni di volontariato quindi in ogni piazza delle associazioni di volontariato svolgono questa iniziativa. Ad Arezzo il CISOM e la Misericordia lo fanno congiuntamente è l'unica piazza in Italia in cui congiuntamente facciamo questa iniziativa. Per il quinto anno consecutivo saranno più di 4.000 i volontari impegnati in 450 piazze italiane in questa sensibilizzazione alla cittadinanza per assicurare un buon livello di prevenzione partendo dal presupposto che bastano poche semplici regole e la loro diffusione per far fronte all'emergenza terremoto. Scegliere un luogo dove aspettare che l'evento passi non cercare principiosamente la fuga non sapendo in che direzione si va ma pensare dove siamo, qual è il posto più sicuro generalmente architravi se non sotto i tavoli ed aspettare che l'evento passi. Questa è la prima condotta utile in caso di terremoto. Un insistente flusso di correnti meridionali collegato ad un'intensa perturbazione continuerà ad interessare la Toscana anche nella giornata di domani portando precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Per questo la protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo con codice arancione dalla mezzanotte di stasera fino alle 8 di giovedì valida per tutte le province della Toscana. Santa Teresa Davila protagonista di uno spettacolo musicale. Vediamo. La figura di Santa Teresa Davila, prima donna ad essere stata proclamata dottore della Chiesa sarà la protagonista del prossimo spettacolo organizzato dall'Accademia Retina di Musica Dima dal titolo Andariega, storia di una donna inquieta. L'evento, in programma per giovedì 15 ottobre alle 21, celebra il centenario dalla nascita della mistica spagnola che diede vita all'ordine dei carmelitani scalzi. L'idea arriva per questa incredibile opportunità che tiene la nostra scuola Dima di star lavorando in un contesto incredibile come può essere Santa Maria delle Grazie come la casa di carmelitani scalzi, con questo fortissimo collegamento che ci sono con le frati, con le sorelle di questa comunione di carmelitani. Proprio per forte impulso della comunità delle carmelitane scalze di Arezzo, nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e sede della Scuola di Musica Dima, Santa Teresa Davila verrà raccontata dalla voce recitante di Giuliana Bianchi, mentre la cantante spagnola Carmela Martinez Garcia sarà la voce solista accompagnata dalla chitarra di Omar Sirulnik. Sarà la sua parola nella bocca di Giuliana Bianchi, saranno le canzoni che ha fatto questa cantatrice, artista spagnola Carmela Martinez Garcia con la sua musica. Io collaborerò con la mia chitarra per cercare di trovare questo spirito incredibile di questa grande zona. Ovviamente il spettacolo sarà di ingresso libero e con l'opportunità di conoscere profondamente la vita di questa grande donna, solo posso dire non perdere questa opportunità perché sarà unica e fantastica. è la quarta B della Scuola Primaria Pescaiola, la classe vincitrice del concorso Disegna il Pappamondo promosso da Oxfam in collaborazione con il Comune di Arezzo che si è concluso con la consegna agli studenti vincitrici di una lavagna multimediale interattiva. Il progetto ha coinvolto 493 studenti di otto scuole primarie di Arezzo che durante il mese di marzo hanno potuto confrontarsi con il tema del cibo come strumento di inclusione sociale ed elemento culturale capace di favorire la conoscenza reciproca e il superamento di stereotipi e pregiudizi. Primamente questa nostra ultima notizia, ricordo che l'informazione continua all'interno del nostro sito web www.tsdtv.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. www.tsdtv.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.